Un cordiale saluto dalla redazione di Florence TV, in studio Leonardo Bardazzi. Infipilì due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa in direzione Firenze. Sempre Infipilì traffico rallentato per traffico intenso anche tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Ancora Infipilì coda allo svincolo di Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze. In A1 per lavori un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Ancora in A1 da stasera e per tre notti consecutive in orario 22.6. Per lavori sarà chiuso il tratto tra Barberino del Mugello e Calenzano in entrambe le direzioni. Sulla Firenze Siena scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allarciamento A1 Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!